musica 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 Allora ragazzi, qui siamo nel Parco Nazionale Cilento e Vallo Tidiano e per me questo è il mio paradiso siamo in prossimità di Chianolle presso Rifugio Cervati davanti a me l'ultra maratoneta Giuseppe De Rosa perché stamattina ci facciamo una bella passeggiata per Cervati musica 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 ci sono tanti di quei cavalli oggi qualcosa di bellissimo Mamma mia Questa è libertà ragazzi Guarda guarda Questa è più super quark questo video Queste sono le forze del Cervati La gecciayamara E qui con i miei cari amici 16 maggio 2020 Dopo il coronavirus Siamo qui Siamo in vetta A 1899 2800 valli Siamo in vetta 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 Siamo in vetta